ciao ci rimane un ultimo modifier da vedere che è il modifier array diciamo che ce n'è degli altri però tra quelli più utili il modifier array è abbastanza chiaro da capire serve a ripetere un certo disegno più volte aggiungo il modifier array e adesso due colonne tre colonne in questo caso è il fattore delle x è quello nel quale si è spostato quindi posso regolarlo è relativo vuol dire rispetto alla sua larghezza quindi uno comincia subito dopo che è finito il primo se mettessi due come vedete sono spaziati esattamente 0 5 sono cominciano a metà di dove finisce il disegno la spaziatura relativa è comoda ma ovviamente se io aggiungo degli elementi al mio disegno per esempio qui ecco vedete che si sposta tutto perché piano piano che aggiungo la larghezza del disegno cambia e l'offset relativo cambia se non voglio questo devo scegliere un offset costante guardate sempre gli assi quassù se mi interessa la x ecco facendo un offset costante adesso non importa se vado ad aggiungere qualcosa al disegno perché verrà aggiunto ma l'offset è di 1,98 e rimane di 1,98 cosa c'è anche di interessante c'è randomize che quindi magari da una certa distanza posso aggiungere un fattore random può essere utile per esempio per delle cose naturali come degli alberi piuttosto che delle colonne appunto quindi permette di cambiare dei valori in maniera casuale e guardate se invece che sulla distanza x io mi muovo sulla distanza y ovviamente siccome sono in un ambiente 3d le colonne si spostano nello spazio e quindi posso avere questa sensazione di spazialità e aver disegnato facilmente un corridoio con dieci colonne ovviamente si sovrappongono devo preoccuparmi di andare a realizzare anche eventualmente dei fill layer fill con solid fill adesso fill e lines ovviamente si sovrappongono secondo 2d layers per io se scelgo per 3d location ecco che appunto quelli in fondo non vengono più diciamo mischiati se voglio creare una sensazione di disegno o magari è meglio che scelga anche screen space per lo spessore in maniera tale che lo spessore sia lo stesso in questo caso è un po troppo grosso per cui posso aggiungere thickness lo metto per primo lo scelgo uniforme e lo cambio e quindi vedete adesso tutte le colonne sono nello spazio 3d vanno in fondo però sono con lo spessore del segno in questo modo lo spessore è costante non importa quanto siano lontane e ovviamente il modifier array la cosa simpatica è che non è obbligatorio che ce ne sia uno solo ma posso crearne più di uno quindi potrei aggiungere un altro modifier array e in questo caso lo faccio sempre costante però sull'asse x ed ecco che tutte queste colonne vengono messe anche mettiamo 5 metri e appunto potrebbero essere anche 5 e ho creato un'intera scena di colonne nel giro di un attimo e la telecamera può tranquillamente spostarsi potrei creare un'animazione della mia telecamera quindi la prendo spostandola un pochino sull'asse x e magari comincio da qui e adesso la telecamera è qui al fotogramma 1 e al fotogramma 250 la porto ancora più avanti siccome ho il tasto registra se lo ricorda quello che ho deciso di fare e quindi ecco che ho l'animazione della mia telecamera nel colonnato diciamo nel giro di un attimo disegnando un'unica colonna le ho disegnate tutte quante e ho anche questa sensazione di disegno perché quelle in fondo hanno lo stesso spessore di quella davanti avendo scelto array costante posso andare a modificare il mio disegno per esempio raddrizzando le colonne che sono storte e eventualmente posso tornare a disegnare quindi torno adesso magari sul livello delle linee e disegno una riga così ed ecco che vedete è stata aggiunta dappertutto questo sono anche col materiale sbagliato lo cambio di nuovo solid stroke disegno per esempio questa linea che quindi unirà le colonne se voglio disegnare una linea tra una e l'altra dovrò farlo diciamo non più sotto front ma devo scegliere top abbiamo visto tutte queste cose per esempio traccio queste due righe ecco adesso sono in alto però le potevo disegnare al posto giusto adesso le ho portate in basso ed ecco qua che ho creato anche le linee sul pavimento con costante potete cambiare il disegno sapendo che non si spostano gli oggetti ricordatevi di cambiarlo e di non lasciare relativo quindi l'array è molto molto comodo per soprattutto per cose architettoniche magari anche insieme con un mirror questa colonna è la classica cosa che si potrebbe creare con un mirror io non l'ho utilizzato il mirror però nel caso come vedete potete mettere molti modifier uno sopra l'altro e ottenere il risultato che volete grazie e alla prossima